Una delle proposte di Giulia è questa 3, 2, 1, go! 1, 2, 1, go! Oggi andremo alla ricerca di nuovissime cose per il back to school Bene sì, quindi raga venite tutti con noi perché andiamo, andiamo perché oggi andiamo, è arrivato il momento andiamo, dirigiamoci andiamo ok raga allora ora vediamo qualcosa per la scuola anche se devo dire la verità questa è la nostra foto di sornimento almeno sembra vieni qua, questi sono un po' i design che sinceramente non è che sono questa grande bellezza oddio, guarda questa Giulia guarda Giulia guarda no ma poi ti stanca eh però è bello però è bello uno che ti piace no ce ne sta eh lo prendi su internet allora una delle delle proposte di Giulia già le ho fatte vedere una delle proposte di Giulia è questa però non so ancora quale prendere ce ne stanno un po' raga in realtà quest'anno punto su Vant su Insta è un po' raga tipo come questo però è un po' più sotto oh ma questo è bello solo che aspetta un po' poi si vede ok vabbè lo vediamo e e no ma raga quest'anno è poco rifornimento ci stanno un po' di cartelline così di cose però mi senti che pure i diari raga ma secondo me sono rimasti utile l'anno scorso perché a me sembra un po' questi sono tutti i diari che ci sono pochissimi a Giulia piace questo diario qua copri copri a Giulia piace questo diario qua che insomma buono lo so raga quest'anno non c'è niente che mi convince più di tanto o almeno nei negozi ci stanno un po' di astucci oddio che farino questo è realtà easy molto semplice però vai questo è abbinato bello qua si vede raga vieni qua Giulia vediamo aspetta ferma voglio vedere se ti faccio qualcosa ma no raga quest'anno io ho detto boh non c'è niente boh che dite da voi c'è qualcosa di carino perché da noi no perché praticamente dobbiamo andiamo a comprare noi da roba ogni anno mi sentite con questa mascherina dove andiamo a comprare la roba noi ogni anno stanno praticamente chiudendo perché devono cambiare gestione e quindi la roba è molto molto poca e infatti boh poi vedremo un po' dove cercare qualcosa di bello ma per ora non c'è niente di questa che devo essere sincera Giulia perché c'è qualcosa che ti convince c'è qualcosa di strafigo non tanto c'è per me comunque le riconizioni che hanno fatto quest'anno è un bel po' scarsa ogni anno raga mettono un sacco di quaderni diari invece quest'anno niente non mi dite niente ma a me non piacciono molto e niente questo è todo ci sono un po' di jaini oddio ispac no ma questo non è ispac vabbè ci sono un po' di jaini che non sono dell'ispac ma proprio per niente astucciori insomma raga io per bene che registrava non so se si può registrare qua dentro quindi quindi boh sono un po' di jaini anche lì giù insomma c'è un po' di roba oddio guarda questo perché Giulia ha la ricerca di un diario tutto colorato è carino ci sono questi di jaini raga oppure ci sono questi qua che già vi ho fatto vedere qui c'è l'abbinamento con stucci che carino c'è anche lo stencil c'è qualcosina ragazzi io sto riprendendo un po' cosa a caso vediamo se c'è qualcos'altro questa qua è una smemoranda è bello questo bianco raga ora vi faccio una ripresa generale di tutto quello che c'è guardate ci stanno i diari e altri ci c'è un po' che cosa è bello ok raga allora siamo tornati a casa Giulia già si è cambiata però vabbè allora raga oggi non abbiamo trovato molte cose non non c'era tanto rifornimento però insomma c'è qualcosa che ti ha convinto a te a me no raga niente però a Giulia si e avete visto però non abbiamo acquistato niente oggi o forse si o forse no chi lo sa e non ve lo diremo mai fino a quando non arriveranno gli haul e niente raga quindi questo è tutto mi raccomando attivate la campanella raga perché perché stanno per arrivare dei video back to school che troppo belli raga comunque iscrivetevi al suo canale marbe l e quindi niente raga noi vi mandiamo un bacio mi raccomando attivate la campanella e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti perché stanno per arrivare perché stanno per arrivare tantissimi video back to school raga arriviamo ai 400.000 iscritti ciao ciao in questo divano con il coltello e le bacchette in mano nanana fa il bravo fa il bravo siamo io